benvenuti a questo incontro del gvmab il titolo di oggi è wikimedia commons da zero a glam buone cattive pratiche di liberazione di file multimediali ringrazio al alex per la partecipazione per la disponibilità e claudio per l'organizzazione passo la parola a claudio allora benvenuti come diceva carlo oggi parleremo di wikimedia commons in un incontro tenuto da alex l'utente ruthven che è utente dei progetti wikimedia dal 2004 e amministratore di commons oltre che di wikipedia in italiano di wikisource in italiano di wikisource in napoletano e anche volontario del servizio vrts di cui credo anche ci dirà brevemente in realtà ruthven è stato già nostro ospite l'anno scorso in occasione della presentazione del lavoro di caricamento liberazione di immagini e dati fatto dal museo saint raymond di tolosa che vi invito a recuperare sul canale youtube wikidata in italiano quello di oggi a mio avviso sarà un incontro ricco ricco di spunti specialmente per chi è a digiuno del progetto di commons e ha intenzione di contribuire ruthven navigando direttamente nel all'interno del progetto ci mostrerà tra le altre cose che cos'è commons qual è il suo scopo e come interagisce con gli altri progetti wikimedia come come wikipedia come wikidata come carica un'immagine quando è possibile farlo partendo dalla licenza che quell'immagine ha quali template utilizzare per una descrizione efficace e corretta e anche buone pratiche ma anche errori comuni che avvengono diciamo nella partecipazione nella partecipazione di istituzioni glam al progetto se avete domande potete metterle direttamente in chat o come al solito nei nostri incontri anche farle al nostro ospite alla fine della sua presentazione ora non voglio rubare troppo tempo ad alex e quindi vi passo la parola buongiorno a tutti grazie per l'introduzione allora sì la la sessione di oggi vuole essere molto pratica vi mostro le piattaforme ve le commento e cercheremo assieme di caricare dei file e vediamo come come si fa nella pratica non andrò a esplorare tutte le sottigliezze tutti i dettagli del progetto perché ve ne sono tantissime se avete delle domande mi interrompete e vi rispondo cerchiamo di trovare una soluzione ai quesiti che avete condivido lo schermo mi dovete autorizzare a condividere il mio schermo perché un messaggio d'errore grazie perfetto perché dice che questo è il desktop uno proviamo così vedete questa bella schermata con la foto di una chiesa sotto quella di perfetto allora avevamo detto che oggi parlavamo di wikimedia commons che cos'è wikimedia commons allora chi non lo conosce probabilmente conoscerà wikipedia o wikidata wikimedia commons è il progetto della wikimedia foundation che ospita tutti i file multimediali utilizzati da tutti i progetti della wikimedia foundation questo vuol dire che praticamente tutte le fotografie che avete su wikipedia sono caricati sui server di commons le immagini che potete avere su wikidata vengono dallo stesso server i libri che sono su wikisource sono precedentemente caricati su commons e così via inutile dirlo è il sito che occupa più banda per la wikimedia foundation che ha più spazio parliamo di decine e decine di terra fare il backup completo di commons prende lo stesso tempo che che prende a google per visitare l'intero web ossia una settimana dieci giorni e così via è una cosa enorme enorme e che cresce sempre di più qui dice qua sopra forse non si vede ma se ve lo faccio più grande sì per il momento ci sono 84 milioni e mezzo di file multimediali questo vuol dire che in teoria tutti questi 84 milioni di file multimediali sono categorizzati sono accessibili a tutti hanno una licenza libera il che vuol dire che si possono usare liberamente sotto certe condizioni che andremo a vedere quando si parla di file si parla di diritto d'autore quindi attacco subito con la cosa più noiosa perché sono regole che sono essenziali conoscere quando si tratta con immagini con dipinti con libri con qualsiasi tipo di lavoro creativo e sto riprendendo qui una presentazione che ho fatto due settimane fa all'università a San Raffaele proprio su questo tema ormai io non faccio più presentazioni scientifiche faccio presentazioni sul copyright che brutta fine allora questo come si vede a pieno schermo la possiamo anche vederla così sarà un F5 probabilmente no F5 modifica il volume eccola qua no ha ricaricato la pagina va bene visualizza sleccio controllo F5 ecco qua questa è una presentazione andrò molto rapidamente perché non tutto ci interessa che avevo fatto a degli studenti di un master sulla comunicazione scientifica in biologia in medicina appunto sul diritto d'autore su come nel giornalismo usa o nella comunicazione scientifica trattare immagini dati testi rispettando legge di diritto d'autore che in Italia è retta dalla legge del 41 la legge numero 633 e ha la particolarità di proteggere le opere dell'ingegno di carattere creativo si è visto tutta una serie di opere di lavori che non sono creativi e che quindi non sono protetti ad esempio un cerchio non è abbastanza creativo si considera che un cerchio il disegno di un cerchio è un'immagine relativamente comune relativamente facile da eseguire non può essere messa sotto copyright invece una fotografia un pezzo teatrale un brano musicale si che sono coperti a dritto d'autore questo vuol dire che non si può usare nulla non si può usare nulla perché ogni opera che troviamo a parte quelle banali sono coperte da diritto d'autore usarle contro la volontà dell'autore o senza informarlo o senza pagargli dei diritti può andare alla semplice infrazione al reato il reato vuol dire si va in galera in caso di plagio quindi qualcosa di molto serio e cosa tutela il diritto d'autore? essenzialmente è quello che vedremo nelle licenze tutela la pubblicazione delle opere le modifiche delle opere e la loro ridistribuzione sono i tre assi centrali e cosa riconosce quindi? riconosce i diritti patrimoniali cioè ogni autore ha diritto a ricevere un compenso quando si usa una sua opera Picasso o i suoi eredi se si riproduce una fotografia di un quadro hanno diritto a ricevere un compenso e poi ci sono i diritti morali i diritti morali sono inalienabili non posso usare un'opera per denigrare l'autore o per denigrare ciò che rappresenta questi non scadono durano in eterno non perderò molto tempo sui dettagli a legge del diritto d'autore però essenzialmente i diritti morali riconoscono ad esempio che un autore deve sempre 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 essere citato quindi questa è una fotografia che avete già visto il guerriero eroico di Corda che è un fotografo ormai deceduto da qualche anno cubano lui ha sempre detto che la fotografia può essere questa fotografia in particolare del CE può essere usata liberamente non vuole essere pagato per essere usata quindi rinuncia ai diritti patrimoniali però il giorno in cui questa fotografia è stata usata per attaccare il governo cubano il fotografo ha fatto valere i suoi diritti morali tutta la campagna pubblicitaria che usava questa fotografia per denigrare Cuba ha dovuto essere ritirata e i danni hanno dovuto essere pagati stessa cosa quando un gruppo di estrema destra ha voluto usare l'immagine del CE per i suoi propri fini il fotografo o erano gli eredi non mi ricordo comunque hanno stimato che l'uso da un gruppo da una francia di estrema destra dell'immagine del CE che simbolizza qualcosa di sia politicamente sia eticamente diametralmente opposto a quello che volevano pubblicizzare questi gruppi ha stimato che era un'infrazione ai diritti morali quindi un'altra volta tutte le pubblicazioni di questo gruppo di estrema destra hanno dovuto essere ritirate e questo sembra assurdo perché in questa fotografia sulle magliette sui graffiti e su delle tazze da caffè ci sono diritti se metto un'immagine del CE su una maglietta non lo sto denigrando se lo utilizzo in una pubblicazione che denigra gli ideali del CE sì quindi i diritti morali sono inalienabili i diritti patrimoniali sono riconosciuti quindi bisogna sempre pagare un autore ma vi sono delle eccezioni ciò vale ma fino a un certo punto la più nota è che i diritti patrimoniali scadono dopo 70 anni della morte dell'autore gli eredi non possono più farli valere si dice che un'opera entra nel pubblico dominio questo vuol dire che posso prendere un dipinto di Giotto utilizzarlo in una mia pubblicazione e non dovrò pagare nulla agli eredi di Giotto questo è qualcosa di positivo attenzione i diritti morali valgono sempre qualora Giotto avesse di eredi se utilizzo un affresco di Giotto per dire l'autore un cretino era un mangiatore di bambini posso venire attaccato in giustizia dagli eredi di Giotto qualora ci fossero ancora in Italia abbiamo parlato che vi è una differenza nella legge di diritto dell'autore rispetto ad esempio a quella statunitense si riconosce il carattere creativo delle opere un'opera fotografica che non è considerata creativa abbastanza nel senso che non riflette la personalità dell'autore e non fa altro che riprodurre semplicemente eventi societari e naturali tipicamente una cartolina dopo vent'anni della sua creazione entra nel pubblico dominio e non settant'anni dopo la morte dell'autore stessa cosa vale per tutte le opere create per lo Stato o per un ente pubblico o per un ente senza scopi di lucro dopo vent'anni della pubblicazione in Italia tali opere entrano nel dominio pubblico questo vale per esempio per le sculture nelle piazze delle città non devo necessariamente aspettare settant'anni della morte dell'autore per poterle pubblicare cioè fotografare e pubblicare ma se sono state realizzate per un comune vent'anni dopo la realizzazione posso liberamente fotografarle pubblicare una fotografia o riprodurle questo vuol dire lo posso fare sempre però nei vent'anni dopo la creazione devo pagare qualcosa all'autore o ai suoi eredi e poi viene un'altra categoria di eccezioni sia tutte quelle opere che posso utilizzare subito senza dover pagare nulla a nessuno rispettando certe condizioni e sono tutte quelle opere che sono pubblicate con licenza libera l'ultima volta che ci siamo visti abbiamo parlato di open data dati liberi liberamente utilizzati che struttura dovrebbero avere per essere utilizzati da tutti facilmente posso anche pubblicare qualcosa rinunciando ai diritti patrimoniali ma se rimane sull'hard disk del mio computer nessuno potrà autofluire stiamo parlando quindi di fotografie di opere testi sculture qualsiasi opera dell'ingegno se pubblicato con una licenza libera può essere usata immediatamente da chiunque senza dover pagare i diritti patrimoniali ma rispettando le condizioni delle licenze e queste condizioni ovviamente toccano quelle di cui abbiamo parlato prima la pubblicazione le modifiche l'attribuzione della paternità dell'autore come condividere un'opera toccano gli usi commerciali o non dell'opera e se posso ripubblicare quest'opera con una licenza diversa le licenze libere più comune e vi parlo solo di queste perché sono quelle che sono usate anche su Wikimedia Commons vedete che c'è una parolina in comune che è Commons queste licenze si chiamano Creative Commons che non sono state elaborate da un'associazione un ente che si chiama Creative Commons giustamente che mira a offrire testi appunto giuridici una licenza è un testo a valenza giuridica quindi appunto è un contratto in pratica hanno definito le clausole di questi contratti per poter ridistribuire opere liberamente e le vediamo assieme rapidamente ma ci sono dei simboletti che si ripropongono la prima in basso a sinistra è la Creative Commons 0 che è più o meno equivalente al pubblico dominio ossia l'autore pubblicando un'opera sotto questa licenza rinuncia a tutti i diritti queste licenze non so se ve l'ho detto ma sono appunto come dice il nome sono quelle che sono più comuni su Commons quindi le incontrerete dappertutto e quando caricheremo un'immagine o un testo o un'impressione in 3D su Wikimedia Commons dovremo usare una di queste licenze quindi Creative Commons 0 vuol dire rinuncio a tutti i diritti potete usarla come volete quella in alto by con l'umino vicino l'unica cosa che si richiede è di attribuire la paternità all'autore dell'opera originale voi mi direte i diritti morali lo impungono sì però è bene esplicitarlo attenzione se una mia opera è pubblicata con una licenza Creative Commons ma poi viene ripubblicata senza rispettare questi termini io posso andare ad un avvocato e chiedere di farmi pagare i danni perché si è violato il contratto col quale ho pubblicato questa quest'opera in sotto la più comune perché forse anche la più restrittiva fra quelle autorizzate su Wikimedia Commons è la CC BY SA BY l'abbiamo visto vuol dire attribuire l'opera all'autore e SA vuol dire usare in caso di ripubblicazione la medesima licenza quindi se io pubblico una fotografia CC BY SA e voi la volete usare per un vostro libro dovete specificare nel libro che la fotografia è pubblicata con licenza CC BY SA se non tutto il libro è pubblicato con la stessa licenza in pratica questa licenza contamina l'opera nella quale si utilizza l'opera derivata nella quale si utilizza l'opera originaria poi si vede un simboletto in quella sotto BY NC del dollaro sbarrato NC vuol dire non commerciale non si può usare un'opera con questa licenza in un lavoro che poi è usato a fini di lucro in un libro che venderò ad esempio e poi ci sono le varie combinazioni quindi BY SA NC stessa licenza però non opera commerciale che vuol dire questo vuol dire che un'opera pubblicata con licenza CC BY CC0 BY SA può essere utilizzata in opera venduta in seguito ND il simbolo dell'uguale vuol dire che non posso fare opere derivate non la posso modificare se dovete usare un mio testo pubblicato con licenza CC BY ND non potete modificarlo dovete pubblicarlo esattamente come l'ho scritto lo stesso vale per una foto per una scultura e così via e poi l'ultima è una combinazione delle altre questa la saltiamo perché non ci interessa interessava gli studenti di giornalismo un altro aspetto importante qui cerco di andare rapidamente su queste questioni è che quando faccio un'opera derivata ossia quando riutilizzo un lavoro ebbene i diritti si sovrappongono sia ci sono i diritti dell'autore originario ci sono i diritti miei che creo un'opera derivata senza pregiudizio dei diritti esistenti quindi non si annullano i diritti dell'autore originario ci sono i miei e poi man mano così opera derivata per opera derivata si aggiungono diritti quindi se voglio utilizzare la monnalisa devo chiedere l'autorizzazione a leonardo da vinci che è l'autore va bene è morto da più di 70 anni quindi non gli devo pagare i diritti patrimoniali ma se fosse vivo dovrei chiedergli l'autorizzazione prima di utilizzare il suo quadro se esegue un graffiti appunto della monnalisa devo chiedere l'autorizzazione a leonardo da vinci o il graffitaro e devi chiedere l'autorizzazione a leonardo da vinci per attenzione questo graffito ha due diritti il diritto d'autore di leonardo da vinci e quello dell'artista del graffitaro che ha eseguito il disegno e poi se fotografo questo graffiti cosa succede? abbiamo questa fotografia del graffiti con la porta la fotografia è mia mia vita non lo è è di un altro fotografo ma diciamo che sia mia se volete utilizzarla a chi dovete chiedere l'autorizzazione? dovete chiederla a me che sono il fotografo dovete chiedere al graffitaro che ha fatto i graffiti e a Leonardo da vinci quindi ci sono tre diritti patrimoniali e chi si sovrappongono e tre diritti morali ovviamente quindi vedete che la cosa si complica molto rapidamente senza parlare di la sovrapposizione di licenze diverse e così via quindi riassumendo per rispettare le licenze di diritto se c'è una licenza libera non vuol dire che è open bar si può fare quello che si vuole ci sono delle condizioni date da un contratto che sono i termini di licenza che vanno rispettate bisogna sempre citare gli autori per esempio CCBS bisogna citare l'autore o la fonte la licenza qui sono dei link con degli esempi però non ci interessano ma vedete un po' come ho fatto qui tipicamente in una pubblicazione si usano i chiedi fotografici in ultima pagina si dice pagina 2 statua della giustizia al palazzo ed oggi non devo citare l'autore della statua anche perché non lo conosco però se lo conosci dovrei citarlo questo è un errore mio però cito l'autore della foto fotografia del grigliore eroico di Alberto Corda e poi le varie foto che ho utilizzato in questa presentazione questa è una visione molto rapida sul diritto d'autore però passiamo subito a mettere le mani in pasta quello che vi volevo proporre è di caricare una fotografia su Wikimedia Commons una fotografia che ho scattato io così vedete anche un po' come funziona il wizard o vedere il modo che ho io di utilizzare queste licenze per caricare una fotografia e mi potete porre delle domande nel frattempo vedete anche come applico queste licenze libere è abbastanza facile bisogna semplicemente dire vicino in questo caso una fotografia vicino a una fotografia questa fotografia è pubblicata con questa licenza creative commons by sa per esempio versione 4.0 in una pubblicazione nelle slide in un libro allora vi propongo di caricare una fotografia scattata da me nel 2019 interrompetemi quando volete quello che faccio è che in questa pagina principale vado sulla barra laterale c'è scritto per partecipare carica ultime modifiche ultimi file non farò a caso io premo su carica e carica mi apre questo simpatico caricamento guidato in pratica si tratta di seguire l'istruzione seleziono i file da qui quindi io vado e seleziono questo file vi è un avvertimento qui che non è stato tradotto ma lo traduco io di solito i file scaricati da macchine fotografiche digitali o cellulare hanno dei metadati che sono inclusi nel file questi metadati potrebbero includere la posizione ossia dove è stata fotografata la fotografia e il vostro nome sulla mia macchina fotografica di solito metto il mio nome cognome la licenza con la quale voglio distribuire la fotografia e basta poi ci sono tutti i dettagli della fotocamera quindi ho selezionato il file posso aggiungere altri ma non lo farò adesso continua poi mi chiede i diritti di pubblicazione questo file è l'opera mia sì quindi io Rutven voglio pubblicare con secondo la licenza donazione al dominio pubblico di Creative Commons 0 è la licenza CC0 che abbiamo visto prima si possono usare licenze diverse difatti quella che vedrete abitualmente su Wikimedia Commons e la Creative Commons attribuzione condividi allo stesso modo che traduzione di CC by SA vedete lumino è il simbolo della freccia che gira attorno a se stessa vi sono delle altre licenze io di solito utilizzo questo perché che vado a pretendere diritti patrimoniali su una di avere l'attribuzione sulla fotografia non professionista lo faccio per distribuire la conoscenza quindi poco mi importa di avere il mio nome riconosciuto anche se chi utilizza la fotografia dovrebbe farlo per i diritti morali passo successivo allora gli attribuito un titolo il nome dell'immagine come si fa per il nome dei file si cerca di dare un nome che abbia un senso perché perché in passato diremo così come si ritrovano come si ritrovano i file su Wikimedia Commons se volete poi andiamo a cercare qualcosa vediamo come usare il motore di ricerca generalmente sono indicizzati in base al nome del file e la descrizione che devo fornire recentemente è stata aggiunta didascalia e dati strutturati che andremo a vedere però devo dare un nome che abbia un senso non posso chiamarla con un codice casuale perché non è indicativo non serve a niente a nessuno io l'ho chiamato in inglese perché Commons è un progetto internazionale si usa la lingua che si vuole però la lingua franca è l'inglese quindi carico la fotografia si prende l'eccomo questo è il nome della fotografia il numero della fotografia nel mio archivio posso farlo potrò anche scrivere 2019 così se qualcuno cerca le fotografie del lago di Como nel 2019 lo trovo didascalia didascalia posso scegliere la lingua nella quale scrive la didastalia la scrive in italiano idrovolante sul lago di Como una descrizione più approfondita del file potrebbe essere esattamente la stessa cosa visto dal come se lungo lago lungo lago di Como ho dato una descrizione un po' più lunga posso fare la stessa cosa in altre lingue per esempio in inglese che ho detto si plane on lake como e va bene così la data me la mette automaticamente dalla fotografia perché erano i metadati della fotografia categorie allora tasto dolente vi dicevo che le immagini sono categorizzate grazie al nome è ancora meglio anzi raccomandato fare se non non è obbligatorio ma se si caricano immagini non categorizzate in continuazione malgrado gli avvisi si può venire cacciati a pedate dal progetto perché si rema contro la categoria in pratica sono come le directory del vostro computer sono nomi su delle categorie nelle quali mettere i file di positivo rispetto al computer è che si possono attribuire più categorie a una fotografia quindi qua posso mettere sono in inglese perché come ho detto che la lingua franca è in inglese seaplanes e mi completa automaticamente quindi idrovolanti seaplanes of Italy ora qui c'è l'ambiguità se sono gli idrovolanti costruiti in Italia o quelli in Italia vedremo dopo Lake Como abbiamo detto che siamo a Como Lake Como vediamo se c'è una categoria no in art Lake Como che mettere più città di Como in 2019 non esiste la categoria Como in 2019 però posso mettere Como negli anni 2010 è la fotografia che ho scattato a Como negli anni 2010 quindi se qualcuno cerca delle immagini di Como a 2010 va bene probabilmente potremmo potremmo fare di meglio però va bene così vi dicevo ci sono delle metadate quindi si vede latitudine e longitudine dove ho scattato la fotografia come vi dicevo l'ho scattato su lungo lago di Como si vede dove ero il 2-3-2019 ero da queste parti qui si possono rimuovere perché potrebbero essere dati personali per esempio se scattate una fotografia vicino a casa vostra magari non potete far sapere a tutti quanti dove abitate per questo vi era l'opzione nella pagina precedente comunque ho messo praticamente tutto pubblica la fotografia caricato tutto aggiungi metadati che cos'è questa novità? che cos'è? allora queste cose sono questa è una qualcosa di recente credo appunto dati dal 2019 sono i dati strutturati abbiamo visto che su Wikimedia Commons vi sono 85 minuti in fotografia che la ricerca si fa grazie al nome del file alla descrizione quindi idrovolante sul lago di Como e basta e alle categorie purtroppo purtroppo non tutti non tutti gli utenti sono bravi come me e mettono dei nomi che hanno un senso delle descrizioni che hanno un senso e inseriscono i file più o meno in categorie che hanno un senso anche perché l'albero delle categorie mi hanno detto che le categorie si comportano come le direttorie di un computer secondo me ci sono 85 milioni di file vi sono diverse decine di migliaia di categorie ed è molto difficile di stricarsi da questo conoscere tutte usando un po' di buonsenso ci si arriva però trovare gente di buonsenso diventa sempre più raro al giorno d'oggi quindi cosa hanno pensato i programmatori di questo portale di Wikimedia hanno pensato ma se mettessimo dei metadati ci sono i metadati della macchina fotografica ma questi non sono indicizzati il motore di ricerca non li utilizza se aggiungessimo dei metadati che abbiano un senso cioè che fossero legati a degli item di Wikidata avrei un web semantico attribuirei un valore semantico a una fotografia e questo è quello che mi chiede di fare su questa pagina aggiungi i metadati aggiungi perché dei metadati ci sono già c'è già la posizione c'è già il nome dell'autore la licenza sono tutti i metadati legati alla fotografia ma posso aggiungerne altri posso dire cosa raffigura questa fotografia allora qua ci ripeteremo però ha un senso fare questo perché questa fotografia è in una categoria idrovolante sul lago di Como anzi no neanche idrovolante idrovolante da un lato lago di Como dall'altro ma io posso ricercare tutti gli idrovolanti sul lago di Como congiungendo le due categorie si fa con uno strumento che si chiama PET scan ma la ricerca per metadati permette di fare delle query e quindi se avessi questi metadati scritti assieme alla fotografia sarebbe molto meglio quindi qui vado ad aggiungere degli item di Wikidata che dovrebbero risuonarvi familiari quindi idrovolante lo faccio in italiano perché vedo che c'è uno in italiano Commons idrovolante venivano in grado di effettuare decolli amaraggi sulla superficie dell'acqua eccolo qui cosa c'è su questa foto? lago di Como lago è una provincia di Como e di Lecco difatti dall'altro lato lo chiamano lago di Lecco cosa c'è? c'è cosa è la figura la fotografia? dell'acqua sì è banale ma c'è dell'acqua qui davanti c'è una boa non è boa cantante sudcoreana è un oggetto galleggiante utilizzato lo scopo di segnalazione o di ormeggio così facendo chiunque cerca una boa sull'acqua o di Como avrà facendo una query la possibilità di farlo grazie a questo vi è anche un edificio qui che sono andato a cercarmi preventivamente su Google Maps e si tratta di Villa Geno sembra perché abbiamo visto che la fotografia era scattata da qui qui di fronte c'è questo piccolo promontorio dovrebbe essere Villa Geno vediamo se la troviamo Villa di Como Villa Geno ecco qua per basta si potrebbe aggiungere cielo identificare questo monte che linea d'aria che potrebbe essere boh questo non sono potrebbe essere questo monte piatto vabbè lasciamo stare va bene così tanto c'è sempre la possibilità di aggiungere informazioni attenzione questi dati strutturati sono pubblicati con la stessa licenza degli item wikidata ossia cc0 per questo questa questa nota oppla sta caricando il file fatto mi dà dei link qua avete il link per accedere al file possiamo andarlo a vedere subito che faccia una pagina di file su Wikimedia Commons allora vi è la fotografia vi sono le varie risoluzioni posso caricarla a risoluzione massima 324x324 pixel o posso caricarla 380x380 eccola qua questo sempre per utilizzarlo su web su pubblicazioni su twitter eccetera eccetera perché non vuoi fare la ricarichiamo non mi fa fare lo zoom eccola qua la fotografia dicevamo con l'idrovolante la villa Genoa la boa il lago bisognerebbe identificare anche questo paesino qui descrizione la descrizione che abbiamo messo prima la data la fonte in questo caso è opera propria l'autore e il luogo dello scatto usando i metadati la licenza qui posso caricare una nuova versione una fotografia non so se lavoro la saturazione il contrasto e poi ho i dati della fotocamera che in questo caso è un iPhone 6S vi sono velocità dell'otturatore la risoluzione le coordinate e così via e in alto qui è in alto perché nelle mie preferenze questo sito web come tutti i siti tipo wikipedia dà la possibilità di avere delle preferenze utente qui in alto a sinistra vedete nelle preferenze si può dire metti le categorie in alto la pagina ma di solito sono in fondo è l'ultima cosa siccome sono abbastanza importanti io le metto in alto queste categorie le abbiamo messe al momento di caricare ma le possiamo aggiungere uno strumento che si chiama hotcat sempre selezionabile nelle preferenze che permette di fare ciò che sto facendo adesso ossia vedete che vicino a queste categorie vi sono delle frecce dei più e dei meno se vado nella categoria sulla freccetta che indica in basso faccio apri modifiche e mostro le sottocategorie quindi vedo le sottocategorie del lago di Comuna ho detto che è come un albero quindi il lago di Comuna è una categoria radice ma scendendo vi sono delle sottocategorie una foto dell'aeroclub di Como che forse avrebbe un senso perché l'idrovolante che atterra lì dovrebbe appartenere all'aeroclub di Como spiagge in Co sul lago di Como dosso di Lavedo isola Comacina ville del lago di Como potrebbe anche starci però detto ciò le posso anche aggiungere quindi c'è un piccolo più qui e posso scrivere Villageno abbiamo detto che si chiama Villageno Como è una categoria che non conoscevo cliccando su ok aggiungo questa fotografia alla categoria dove sono custodite tutte le fotografie su Villageno che andiamo a vedere poi scopriamo che non è quella sì è quella uff vedete se prendiamo una fotografia della villa la vediamo da molto più vicino e questa categoria Villageno dov'è? è una sottocategoria di altre categorie della categoria Vill a Como di Giacomo Tazzini che probabilmente è l'architetto abbiamo costruzione in Italia nel 1850 ville sul lago di Como ville neoclassiche in Italia qui forse potremmo migliorare sempre premendo sulla freccia in giù vediamo se c'è una categorizzazione diversa no allora va bene così potrebbe esserci ville neoclassiche in Italia per regione architettura neoclassiche in Como giardini in Lombardia poi vi è una scheda questa scheda è creata unicamente prendendo i dati da Wikidata quindi vi è un item su Wikidata Villageno con istanza di villa e istanza di complesso edifici si trova a Como provincia di Como bla 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 è situata sul lago di Como che sono dal punto di vista di un utente di Commons dei metadati della categoria e la posizione della villa e qui se andiamo in fondo anzi dovrebbe essere in ordine alfabetico ecco qui questa è la fotografia che abbiamo caricato avete domande fino a questo punto so che sono molti concetti che abbiamo visto ok una cosa che vi posso mostrare adesso visto che c'è un item su Wikidata è questo qui q1 1 1 3 3 3 eccetera eccetera e qua ritroviamo le dichiarazioni che sono nella scheda presente su Wikimedia Commons quindi è un'istanza di villa è un complesso di edifici ha un'immagine è situata in Italia a Como sul lago di Como coordinate geografiche via l'architetto quello che avevamo supposto Giacomo Tazzini l'architetto e ha un identificativo dei beni culturali della Lombardia però se prendessimo vediamo una cosa vorrei fare un esempio eh no sarebbe stato carino se avessimo avuto una fotografia del signor Giacomo Tazzini da mettere su su item di Wikimedia Commons no vabbè passiamo a qualcos'altro eh scusa posso farti una domanda? certo eh sono Susanna Giaccai ciao Susanna ciao il template Wikidata Infobox che sta dentro lì nel categorie eccolo qua eccolo qua ma come funziona? non ho mai capito ci va da sé o ci va messo? ottima domanda eh allora se ci va di solito quando creo una nuova categoria io lo aggiungo direttamente però vedi che qui c'è un un bot ah no è stato messo a mano in questo caso allora per i non utenti di di Commons che ho fatto? che ho fatto? ho fatto due operazioni stranissime eh Susanna ha parlato di questa scheda sul lato il codice della categoria è esattamente un codice come tutte le pagine di Wikipedia è scritto in un linguaggio è scritto in un linguaggio che è un linguaggio basato sui tag e ha dei template i template sono delle cose delle scritte dei testi che scriviamo fra parentesi graffe qua si chiama Wikidata Infobox Wikidata Infobox è il comando che crea questa scheda sul lato e che mi crea il link con Wikidata eh poi ho premuto questo tasto cronologia come tutte le pagine di Wikidata di Wikipedia di tutti i progetti posso vedere gli utenti che hanno fatto un'operazione sulla pagina e qui vedo che Bohemian Rhapsody ha aggiunto Wikidata Infobox quindi è stato messo a mano anche io ho il sospetto che fosse messo automaticamente ma quando creo una nuova categoria non viene immediatamente collegata allora quello che succede che se non lo metto a mano io ma inserisco su Commons su Wikidata è il nome della categoria quindi se vado sulla scheda Wikidata vi è una dichiarazione che corrisponde eccolo qua ora faccio un po' più grande categoria su Commons se riempio questo parametro suppongo fortemente che vi è un bot che va in questa categoria e aggiunge Wikidata Infobox però lo fa dopo qualche giorno dalla creazione onde evitare ciò quando creo una nuova categoria su su Commons lo aggiungo a mano in questo caso il template è stato aggiunto a mano da Bohemian Rhapsody il fatto sta che la cosa non è immediata sia che lo aggiunga qui a mano sia che dall'altro lato lo aggiunga nell'item non vengono immediatamente collegati per collegarli immediatamente quello che faccio di solito perché perché non vengono collegati automaticamente perché bisogna aggiornare i due siti in modo sincrono inserisco Wikidata Infobox utilizzo questo questo tool che mi suggerisce i parametri da aggiungere al template tipicamente il QID che è quello che corrisponde all'item su Wikidata se aggiungessi questo avrei direttamente la categoria che si collega all'id su Wikidata e mi aprirebbe la scheda subito appena appena inserito questo questo testo ovviamente devo salvare pubblicare le modifiche se non lo faccio devo aspettare che un bot o aggiorni Wikidata o aggiorni Commons però non è sbagliato e si può mettere Wikidata Infobox e sperare che nel futuro qualcuno crei il collegamento mi capita di ricevere ricevere notifiche che mi dicono questa categoria che tu hai creato due anni fa è stata collegata col suo elemento Wikidata ed è probabilmente quando un'operazione di questo tipo avviene non so se ce l'ho fra le notifiche recenti ecco vedete la pagina categoria var corcera è stata connessa all'elemento Wikidata Q eccetera eccetera due dati rilevanti però cosa mi fa supporre che questa cosa sia stata fatta a mano perché vedo che c'è un nome utente legato a questo avviso Zionico questa cosa qui la categoria lo trésor de merveille della Maison Roy è stata connessa all'elemento Wikidata e c'è il nome di utente dietro quindi probabilmente c'è qualcuno che l'ha fatto a mano che è andato a dire a Wikidata guarda che la categoria per questo elemento su Commons si chiama così e poi il bot è passato e ha aggiornato i due siti va bene come risposta va bene basta metterlo ma se non lo si mette qualcuno lo metterà ecco oppure un giorno o l'altro passerà un bot e lo farà però è utile metterlo o da un lato o dall'altro o su Wikidata o su Commons fatto questo poi automaticamente si collegano i due elementi quello che volevo vedere con voi adesso è fare esattamente la stessa cosa prendere una fotografia e caricarla su Commons però non usando una licenza libera ma prendendo un file nel pubblico dominio vedrete che la cosa è meno lineare di quello che ho fatto finora magari andrò un po' più rapido su certi passaggi perché è già quasi un'ora che stiamo parlando però farò la stessa la stessa operazione quindi andiamo a prenderci un file ops tac 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 ricarichiamo questa pagina sono andato al Detroit Institute of Arts dove vi è una mirata di video da foto del porto di Napoli nel 1885 dove si vede la fontana di Santa Lucia quando stava ancora qua si vede per i locali dei banchetti cosa sono questi ci sono dei nomi Gaetano Peluso Giovanni Peluso Salvatore Pepoto Peloto non leggo sono dei banchi vedete una rete qui di Ostricare erano i negozianti di ostriche che avevano le ostriche nel golfo di Napoli che le vendevano ai passanti e qui vediamo anche questa anche una cosa che è eccezionale questo è un bagno pubblico non si vede forse si vede meglio una volta caricato se faccio così questa è un o una palafitta o una chiatta o una barca galeggiante vedete c'è scritto la sirena di Napoli queste erano tutte cabine per permettere ai signori e alle signore di spogliarsi prima di gettarsi a mare e mettere quei vestiti che coprivano praticamente tutta la persona quei costumi da bagno immensi una bellissima foto di Giorgio Sommer Giorgio Sommer è un fotografo italiano però non è meridionale che è morto nel 1914 ha fatto fotografie in tutta Italia a Napoli a Roma nel nord Italia ha fatto fotografie in Sicilia ha fotografato le Alpi ha una collezione molto vasta si cerca di fare il suo catalogo su Commons quindi vedete che vi è una pagina immensa con tutte le fotografie su quali si è riuscito a mettere la mano categorizzate per numero di inventario alcune sono ridondanti altre no e categorizzate anche per serie quindi la serie dalle 9000 a 9000 a 9000 499 a Palermo e così via la Svizzera a Genova carichiamo questa fotografia che è stata pubblicata dal Detroit Institute of Arts il Detroit Institute of Arts che dice dice che il suo sito web è sotto copyright ogni diritto riservato c'è scritto in piccolo qua in basso quindi se utilizzo qualcosa dal loro sito web sto violando i diritti d'autore però questo come si concilia con il fatto che questa fotografia è nel pubblico dominio e nel pubblico dominio anche secondo legge negli Stati Uniti beh semplicemente diciamo non ci hanno fatto attenzione se vogliamo presumere buona fede e involontariamente si sono appropriati della fotografia e dell'opera di qualcun altro che è nel pubblico dominio se vogliamo veramente fare le pulce a questo museo la fotografia è stata donata da un donatore anonimo però dare un'opera in particolare il positivo di una fotografia non attribuisce nessun diritto su questa fotografia come se io facessi la fotocopia di un libro di un autore non è che fotocopiando un libro ne divento io l'autore o aggiungo i miei diritti ai suoi non sto quello che dicevamo all'inizio facendo una fotocopia o una scansione di un'opera non sto esercitando cioè non sto realizzando nessuna opera creativa sto copiando anzi sta facendo una macchina per quanto mio quest'opera di copiare quindi sia il libro che scansiono sia questa riproduzione di fotografia non comporta nessun diritto d'autore aggiunto quindi Detroit Institute of Arts non ha nessun diritto però valgono i diritti del signor Giorgio Sommer e abbiamo visto che i diritti patrimoniali sono scaduti dopo 70 anni quindi posso recuperare questa fotografia scaricarla sul mio computer e andarla a caricare su Wikimedia Commons come ho fatto prima col tastino vi consiglio di usare questo tastino questo wizard per caricare vi sono altri modi per caricare se avete una singola fotografia o un piccolo gruppo di fotografia questo va benissimo anche perché permette di copiare adesso lo vediamo faccio carica altri file seleziona file multimiliei caricare ops ops ah non l'ho scaricata ancora va bene vi sono altri modi vi sono dei bot vi sono dei programmini per scaricare le fotografie caricarle su FuCommons uno che si chiama Commonist che è molto usato se avete piccoli barci di fotografie questo va bene quindi che faccio prendo questa fotografia dell'Istituto d'Arte di Detroit la carico sul mio computer ok l'ho scaricata vedete qui in basso adesso eccola qui la ritrovo nei miei download se già caricando questo file perché ho dovuto fare ho dovuto aprire due volte la stessa finestra ho dovuto fare una prova prima molto probabilmente vabbè continuiamo le difficoltà iniziano nella prima pagina diritti di pubblicazione questo file non è opera mia non è opera mia quindi se non è opera mia devo dire qual è la fonte e qual è l'autore la fonte è questa pagina questa pagina web posso semplicemente prendere questo URL e copiarlo in fonte non importa che sia di un sito web anzi meglio permette agli altri utenti di andare a verificare la provenienza l'autore l'autore come ha detto Giorgio Sommer andrebbe bene così se volete fare qualcosa onde evitare che vi si rinfaccia di aver utilizzato la fotografia di un autore per il quale i diritti non sono scaduti potete indicare anche fra parentesi o vicino nome dell'autore le date di nascita e di morte si può fare ancora meglio per gli autori famosi generalmente vi è un parte una categoria vi è una categoria vi è una categoria Giorgio Sommer lo dovrei trovare qui stessa cosa vi è la scheda con l'elemento Wikidata nato in Germania a Francoforte morto a Napoli vi sono tutte le sue fotografie ma qui vi è anche qualcosa che si chiama Creator che cosa è questa roba? Creator è la pagina speciale che contiene i dati di un autore noto su Commons quindi qui la vedete questa scheda posso usarla come un template si prende qui lo copio e incollo perché sono pigro invece di scrivere nome e cognome scrivo creator due punti Giorgio Sommer fra parentesi graffe e vedrete che apriera quella piccola scheda il detentore del copyright ha pubblicato quest'opera con la corretta ricenza Creative Commons le ricenze Creative Commons non esistevano nel 1914 o alla fine del XIX secolo il detentore del copyright ha pubblicato la propria foto su Flickr neanche il copyright è scaduto definitivamente negli Stati Uniti sì perché? perché è stato pubblicato per la prima volta prima nel 1927 abbiamo visto che la fotografia è degli anni 880 e l'autore è deceduto da più di 70 anni faccio click qui una cosa molto simile è quest'altra opzione se la riproduzione è fedele di un dipinto nel pubblico dominio per esempio se prendo questo dipinto di William Wild è nel pubblico dominio ho questa finestra aperta perché stavo mostrando come prendere le opere d'arte di Alami e recuperare la versione senza tutte queste piccole scritte per poterle caricare su Commons alla faccia di chi si appropria di opere nel pubblico dominio ma questo sarà l'oggetto di un'altra lezione quindi questo è un'opera è una pittura che è nel pubblico dominio non sto facendo nulla di creativo se la riproduco senza la cornice senza una fotografia se prendo soltanto la tela quindi posso caricarla secondo questa opzione però nel nostro caso siamo una fotografia pubblicata prima nel 1927 autore deceduto più di 70 anni fa perché parla dagli Stati Uniti qui perché i server di Wikimedia Commons sono negli Stati Uniti quindi bisogna rispettare la legge del diritto d'autore degli Stati Uniti a parte la legge del diritto d'autore del paese dove è stata pubblicata per la prima volta l'opera successivo titolo dell'immagine F4677 sarà il numero di inventario sarà il numero di inventario del dettore di Stato Fars comunque non è qualcosa di molto indicativo però se lo chiamassi Sommer Virgola Giorgio data di nascita e morte numero di catalogo della fotografia che si intravede in basso lo vediamo dopo che si intravede in basso a sinistra che è 1106 Napoli e Santa Lucia che è il quartiere di Napoli dove è stata scattata la fotografia sto dando abbastanza informazione per poterla rintracciare qui posso scrivere Santa Lucia nel 1885 circa mi dà scalia valida per questa fotografia qui invece posso dire qualcosa di più Fontana di Santa Lucia e Porto di Napoli con la maiuscola perché è anche un sedile a fine novecento banchi di ostricari e bagno come si chiama quel bagno la sirena di Napoli la sirena di Napoli che poi sarebbe Partenope e bagno di Napoli fino a 800 Alex fino a 800 scusami fino a 900 sì fino a 800 era poco tempo fa relativamente ok seleziona la data qui iniziamo tecnicismi è datata 1885 circa posso scrivere la parola posso scrivere 1885 poi vi mostrerò come fare meglio se abbiamo il tempo categorie categorie questa è sicuramente Santa Lucia Napoli no Porto di Napoli Arbor vedi che non è facile trovare le categorie of Naples eccolo qua Santa Lucia Fontaine Santa Lucia vabbè come vi dicevo trovare le categorie non è facile che categorie potremmo mettere qui probabilmente fotografie storiche di Napoli fotografie di Giorgio Sommer di Napoli Fontaine di Santa Lucia perché è un elemento abbastanza importante della fotografia e Porto di Napoli o Golfo di Napoli o Vesuvio visto da Napoli possiamo mettere in seguito abbiamo visto quindi posso pubblicare la fotografia anzi possiamo fare photographs of Giorgio uff Giorgio Sommer questa categoria è sbagliata perché Giorgio Sommer dovrebbe riguardare solo il fotografo le sue fotografie saranno in una sottocategoria ma le andremo a mettere dopo pubblicato adesso ciò che ci interessa i dati strutturati cosa raffigura questa fotografia tante cose abbiamo detto che raffigura Porto di Napoli Porto di Napoli eccolo qua raffigura la fontana di Santa Lucia Fontana di Napoli che è questa qui Golfo di Napoli Golfo di Martirreno si intravese sullo sfondo il Vesuvio vulcano attivo di tipo esplosivo allora qui ci sono delle due navi con il Gran Pavese questo onestamente non lo so mettere su Comunz barca a vela barca a vela tipo di imbarcazione va bene così si potrebbe aggiungere altro ci sono dei carretti in prima fila carretto veicolo semplice che non ha descrizione italiana però su leggere l'inglese e così via divertitevi aggiungete ostricano sarà difficile trovarlo si potrebbe creare ostrica ostrica no si potrebbe creare elemento su Wikidata tipo di mestiere che lavora con le ostriche vabbè diciamo che va bene così l'idea di oggi mostrare una panoramica di tutto ciò si potrebbe anche indicare in certe fotografie alcuni elementi come proeminenti l'abbiamo visto passare molto rapidamente qui non me la sento di dire che la fontana sia in primo piano più il golfo di Napoli in primo piano però va bene così comunque andiamo a vedere cosa è successo col caricamento eccola qua una foto ad alta risoluzione di Sommer bellissimo di nuovo tutte le risoluzioni vedete che adesso mi appaiono tutti i dati perché un autore famoso se non lo fosse non avrebbe la categoria non avrebbe la scheda creator sarebbe da fare non è difficile in particolare se esiste l'elemento Wikidata quindi con data di nascita data di morte luogo di nascita e così via è molto facile creare il creator basta dare l'item Wikidata e lo fa da sé magari un altro giorno vi cerco un autore che non ha la scheda creator su commons e la creiamo assieme c'è un tool per farlo si fa in due click conoscendo l'item Wikidata altrimenti bisogna creare tutto da zero va bene potrebbe andare bene si può fare di meglio vado a modificare i dettagli la data vedo che non è 1885 ma circa 1885 vi ho un template per dare le date complesse si chiama complex date ha molti parametri non è molto facile da usare però circa si fa con la tilde quindi scrivo complex date barra tilde barra 1885 mi apparirà se visualizzo l'anteprima 1885 circa perché è utile utilizzare questo template perché questo circa lo vedo io perché è in italiano però un utente che avrà la pagina in inglese vedrà about e così via e questo discorso vale anche per i metadati che ho aggiunto noi li abbiamo visti in italiano ma sono multilingue quindi saranno utili a tutti gli utenti in tutte le lingue perché gli item su wikidata sono multilingue posso fare ancora di meglio posso usare per inserire il template utilizzo questo puzzle qua sopra non so se lo vedete è utilissimo è una novità in pratica se il lavoro è stato fatto correttamente mi indica tutti i parametri che posso avere in un template è una fotografia quindi è buona pratica usare il template photograph per indicare una fotografia e questo è un template che ha molti parametri noi metteremo accession number che è il numero di inventario la data ce l'abbiamo coordinate della fotocamera credit line department poi ci sono questi due depicted people e depicted place posso indicare in che luogo che cosa è raffigurato o che persona è raffigurata come si fa si fa usando un altro template di commons che permette di creare il link con l'elemento wiki data non lo faremo oggi dimensioni abbiamo le dimensioni a fotografia si facciamo cose molto complicate oggi dimensions medium che fotografia stampa su album fotografo e fonte e fonte description ce l'abbiamo description eccola qua ci sono tutte queste belle cose iniziamo a riempire una volta aperte queste varie cose queste varie caselle bisogna solo riempire la fonte abbiamo detto che è questa abbiamo detto che creator giorgio sommer mezzo il mezzo si fa con un altro template che vi ci sono degli aiuti la piccola vi dà degli esempi se volete si utilizza il template technique che ha tantissimi parametri anche credo che per stampa sul boom sia al boom and print poi vedremo se funziona dimension dimension si usa il template sides non è in pollice ma in centimetri e lo diceva nella pagina del museo 19,4 per 24,8 sto facendo un eccesso di zero ma è una buona pratica farlo ecco qua description description la metto dopo perché l'ho già scritta department date abbiamo detto complex date potrei anche copiarla 1885 e il numero di inventario ho detto 1106 si vede in basso a sinistra nella fotografia description prendo quella che ho fatto prima oppla e la sposto qua la data c'è l'osource ho preso tutti i dati che sono qui department potrei mettere il museo da dove proviene Detroit Institute of Arts posso scrivere a piene lettere ma probabilmente esiste già quindi ho cliccato sul ho cliccato sul sul pezzo di puzzle qui inserisci un template Detroit Institute of Arts eccolo qui ho messo tutto oggetto photograph ho aggiunto photograph più photograph chi vuole capire capirà fotografia e sotto ho una scheda con molti più dettagli qua c'è un typo fotografo questo l'abbiamo già descrizione data tecnica materiale ho sbagliato a scrivere albumen print type modifica minore stampa l'albumina quindi tecnica materiale me l'ha tradotto in italiano perché ci ho azzeccato col nome se avessi dubbi potrei andare a vedere la pagina specifica del template e mi hanno detto che tecnica e c'è la documentazione posso fare creare cose molto complicate stampa l'albumina sul foglio di carta di riso per esempio potrei creare vi sono degli esempi affresco olio su tela ma quello che è utile è la lista dei nomi non list vetro acrilico agata alabastro foglio d'albume stampa l'albumina quindi questa è la parola chiave e questa è la traduzione italiana si possono modificare aggiungere poi dimensioni altezza e larghezza col template size ho messo altezza e larghezza della fotografia dell'originale del positivo che non è originale del positivo che è custodito dentro l'artistituto VARTS ubicazione attuale numero di inventario è quello che è scritto qui in basso a sinistra e la fonte è il link e la licenza c'era stata messa automaticamente quest'opera nel pubblico dominio anche in tutti i paesi nelle aree in cui la durata è il copyright e la vita dell'autore più 70 anni o meno potrei essere più preciso potrei dire più di 100 anni però va bene così abbiamo visto così una serie di buone pratiche quando si caricano fotografie le categorie potremmo fare di meglio abbiamo detto che le categorie bisogna mettere categorie che siano identificative ho cliccato sulla freccetta in basso e vedo le sottocategorie Google Project Photographs a Giorgio Sommer ci interessa immagine di Casa Micciola di Caserta Catania Firenze Genova Lago di Como Lago Maggiore di Napoli immagini Napoli immagini del Vesuvio questo non è veramente c'è il Vesuvio in fondo però va bene così e questo è del 57 probabilmente perché ci sono molte fotografie del 57 ma va bene così io cerco sempre la fontana di Santa Lucia Fontana non sarà mai Santa Lucia Fontana no come si chiamerà la categoria Fontana of Santa Lucia caspita se cerco mi scusi prima c'era una Santa Lucia tra parentesi Naples era quella eccola qui Santa Lucia Naples ma era Fontana 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 of Santa Lucia Naples perché non me la trovo l'avevo forse in italiano Fontana di Santa Lucia non voglio neanche andare ad indagare chi l'ha fatto che potrebbe essere stato ecco qua classificata correttamente lo sticaro probabilmente non c'è abbiamo parlato di dati strutturati quindi vediamo che qui c'è a fianco alle informazioni del file che vi mostra tutta questa informazione che abbiamo appena inserito posso andare a vedere dati strutturati e mostro quelli che abbiamo inserito in fase di caricamento si può anche inserire direttamente l'elemento Wikidata per esempio uno aperto a caso che è un'emittente televisiva spagnola se metto il codice Q me lo trova posso segnare come proeminente quello che dicevamo se la fotografia rappresenta essenzialmente la fontana di Santa Lucia lo segno come proeminente alla fine devo fare pubblica modifica ma non lo farò si possono specificare più cose in questo modo per esempio se vado a prendere un'altra fotografia su Commons prendiamo questa ci sono dei bot cioè in automatico si stanno inserendo dei dati strutturati questa fotografia probabilmente non avrà un elemento che raffigura però vi sono informazioni sul creatore che si chiama Baku che è un utente di Wikimedia Commons che ha questa pagina utente si firma come Baku questa fotografia è coperta dal diritto d'autore ed è pubblicato con tutte queste licenze evidentemente Baku non è qualcuno che lascia le cose a metà quando una fotografia è pubblicata con diverse licenze basta scegliere quella che si vuole ovviamente è stata caricata un po' di tempo fa e anche la CNU la GFDL che non si utilizza più noi possiamo inserire adesso qui Santa Lucia Fonte che corrisponde a questo elemento Wikidata quindi ando qui potrei scrivere Fontana di Santa Lucia però inserisco più rapidamente cosa ci sono anche cosa alberi albero vi è una pianta legnosa con corteccia che è anche un lampione però onestamente la Fontana in questa fotografia è proeminente pubblica le modifiche fatto allora parlando di dati strutturati su common si tende a usarli sempre di più Claudio quanto tempo abbiamo ancora per regolarmi? puoi prenderti tutto il tempo che ti serve Alex tanto i partecipanti sanno che possono fare una domanda in ogni momento perché cosa avevo previsto di vedere assieme a voi oggi? queste le abbiamo viste qua ritroviamo le fontane di Santa Lucia vi ho un'altra fotografia come a parità appariva a metà 800 che non è quella che abbiamo caricato noi però è simile vi sono le stesse banche degli ostricare sempre quello stesso autore questa è la pagina su Wikipedia ah sì volevo mostrarvi come appaiono queste cose su su Comus non l'abbiamo visto assieme perché quello che non abbiamo aggiunto nella nostra fotografia è che vi è uno stabilimento balneare la sirena di Napoli no? vi ricordate? e io potrei potrei aggiungere un qualificatore tipo nome nome ufficiale non è inglese ma è italiano la sirena di Napoli ho raffigurato ho elencato gli elementi che sono raffigurati nella fotografia ma ho potuto specificare altre cose ora io non sono esperto di Wikidata mi dà dei problemi perché non devo utilizzare il nome ufficiale in questo tipo di entrata in questo tipo di riga i stabilimenti balneare probabilmente non hanno diritto ad avere dei nomi ufficiali però avete capito l'idea per alcuni elementi posso specificare posso precisare delle cose ora se la vedranno gli utenti sono più esperti su Wikidata come regolare questa cosa probabilmente la cancelleranno pazienza vediamo un altro stabilimento balneare stabilimento balneare principe di Piemonte che ha il suo elemento Wikidata un po' povero ora non so se vale la pena vedere queste cose con voi che forse sapete come fare però possiamo vedere semplicemente come creare una categoria per questo stabilimento balneare su Commons e fare un po' quello che ci chiedeva Susanna prima inserire il collegamento con Wikidata e e viceversa inserire il collegamento su Wikidata alla categoria anche perché vedo che ci sono molte fotografie ma forse ci sta già che cosa è sta roba ah no sto saltando un passo andiamo a vedere questa fotografia dello stabilimento principe di Piemonte che ha via Reggio ha già una categoria o un miracolo che si chiama bagno principe di Piemonte probabilmente non c'è il Wikidata Infobox non ha il Wikidata Infobox lo aggiungiamo Wikidata Infobox si chiama così è Wikidata Infobox si e gli mettiamo il QID hop hop e nell'oggetto della modifica più Wikidata Infobox faccio come Bohemian Rhapsody così capiranno che l'ho inserito e vedete che già appare la fotografia che è presente su Wikidata e le poche informazioni che ci sono cioè che è un stabilimento valnare in Italia possiamo aggiungere cose possiamo dire che unità amministrativa in cui è situato è a via 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 reggio comune italiano hop posso dire altre cose andiamo a vedere la pagina su Wikipedia se ci dà altre informazioni è situato in via Marconi un'area occupata bla 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 il bagno di Lido è oggetto di nuovi progetti da parte eccetera eccetera quando è stato creato inaugurazione nel 1920 quindi posso dire su Wikidata data di fondazione o di creazione pubblica l'architetto lo dice avete capito il principio potrei inserire il nome dell'architetto e così via posso inserire anticipare quello che farà un bot un giorno o l'altro posso inserire la categoria su Commons che era la categoria ho detto bagno bagno principe di Piemonte come si chiama su Commons come si chiama su Commons bagno principe di Piemonte con maiuscole ovunque di Piemonte qua non me l'autocompleto però mi dà un messaggio se non esiste e qui esiste quindi se torno nella categoria bagno principe di Piemonte se faccio l'obbligo a ricaricare la scheda wikidata vedo che è apparsa la data di fondazione di creazione quindi veramente una sinergia fra questi due progetti a livello di categoria ma abbiamo visto anche di più oggi a livello dei file a livello dei file e a livello di categorie perché sono stati adottati i dati strutturati ne parleremo probabilmente uno di questi giorni o lo vedrete con Claudio che già li conosce un poco il nuovo trend su Commons è l'aggiunta ai dati strutturati l'avete capito da quanto ho insistito su questo anche senza essere esperti senza poter entrare nei dettagli degli elementi rilevanti delle fotografie abbiamo visto che già le licenze gli autori sono inseriti automaticamente da Debot e noi possiamo dire in una fotografia cosa c'è per permettere da un lato di eseguire delle ricerche con delle con delle con sparquelle semplicemente per trovare fotografie che possiedono vari elementi o combinare ricerche nei dati strutturati quando ci sono ci sono anche le coordinate abbiamo visto si possono fare ricerche sulla base delle coordinate ma cercando elementi particolari per esempio delle boe in un lago serve anche molto i Glam ai progetti culturali perché si lavora facilmente con Wikidata per esempio facendo una lista di fotografie e attribuendo a queste fotografie vari elementi su Wikidata che poi finiranno con l'essere dei dati strutturati legati alle singole fotografie ma siccome stiamo parlando di un web semantico permetteranno anche di trovare le categorie corrispondenti su Commons che noi abbiamo penato un po' a trovare perché? perché queste categorie si stanno inserendo sempre di più con un collegamento su Wikidata allora su Wikimedia Commons vi ho una pagina che riassume un po' tutto ciò che si chiama senza sorpresa Commons due punti struttura e data vi sono dei video vi sono delle presentazioni si spiega un po' cosa corrisponde vi è l'esempio famoso delle 12 zollette di zucchero e una fotografia alla quale si sono aggiunti dati strutturati ora possiamo vedela qui non so se l'ho caricata da qualche parte no andiamola a vedere eccola qua non ho fatto altro che cliccare sulla fotografia è presente molte categorie sono divertiti ha molte descrizioni usa un template complesso di fotografie quindi si è bianco il luogo dove è stata fotografata cosa raffigura qui vi è l'elemento Wikidata zolletta di zucchero è quella è quell'elemento del template che abbiamo saltato i dati dell'otturatore dell'immagine il fotografo la licenza come va attribuita la fotografia con questa linea qui poi è stata anche fotografia del giorno e così via questo è relativamente banale andiamo a vedere i dati strutturati posso trovare questa fotografia se faccio le ricerche per zollette di zucchero e poi è stato specificato vi sono 12 zollette bianche che in una forma cuboide che sono fatte di zucchero bianco giusto e hanno una posizione all'interno dell'immagine che sono coordinate tridimensionali della posizione delle zollette rispetto al piano della del CMOS del sensore un tempo era il piano del negativo ma adesso la distanza dal sensore che il creatore coperta di diritto d'autore pubblicato con la licenza ccby sa 4.0 il file è una creazione originale del fotografo fotografia scattata il 20 luglio 2018 e si può anche dire alle 19.02 e così via ci sono tanti 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 dati strutturati si può anche vedere dove erano situate le zollette di zucchero sulla sulla mappa e così via wikidata si lamenta sempre anche quando si dà il numero di pixel non gli piacciono c'è una segnalazione comunque come fare questo si può fare a mano come abbiamo fatto noi ci sono dei tool allora io ho preso banalmente una presentazione su dati strutturate a Wikimania dell'anno scorso che spiega rapidamente che cos'è fa l'esempio delle zollette di zucchero quindi io non ho inventato niente la mia presentazione non è una creazione originale e mostra dove esattamente quello che vi ho mostrato dove si situano questi dati questo era un po' l'inito no sì forse dei dati strutturati vabbè comunque quello che ci interessa è che sono utilizzati nei progetti con molte fotografie perché è un modo semplice di assegnare come dicevo prima delle informazioni semantiche alle fotografie di una collezione e avete visto si può anche dire non soltanto cosa raffigura una fotografia ma da dove proviene in quale collezione appartiene quindi l'hanno fatto per la libreria pubblica americana con due milioni di caricamente cosa mi interessava mostrare qui un po' più giù ci sono altri esempi ecco qua si può mettere anche come dato scusato la didascalia delle immagini quello che abbiamo riempito con il caricamento della fotografia adesso è parte di commons si carica una fotografia senza che nessuna didascalia cosa vuol dire vuol dire che la didascalia farà parte di un eventuale elemento wikidata corrispondente alla fotografia quindi quando metterò la fotografia su wikipedia avrò automaticamente anche la didascalia nella mia lingua stessa cosa è stata fatta con gli oggetti del met che ha pubblicato i soggetti con licenza gc0 e per altri progetti con geolocalizzazione delle immagini e così via un po' come si fa con wikilove monuments tutto ciò negli embedded data collezioni 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 e voi avete visto noi abbiamo visto un po' come abbiamo fatto il collegamento fra wikimedia commons e wikidata il collegamento anche con l'istituzione perché l'istituzione può avere dei metadati come io avevo dei metadati sulla posizione ad esempio nella mia fotografia ne ho aggiunti altri su commons o su wikidata si può fare la stessa cosa e poi io potrei reintegrare nella mia fotografia queste informazioni nella mia collezione privata arricchirla grazie al lavoro dei wikimediani un po' quello che si voleva fare che è stato proposto qualche wikimania fa dal sottoscritto per i testi di wikisource presi da internet archive cosa facciamo noi su wikisource rileggiamo testi molti di questi testi sono testi nel pubblico dominio quindi sono liberamente utilizzabili senza dover pagare diritti patrimoniali a nessuno ma sono caricate sui server di un progetto che si chiama internet archive noi cosa facciamo scarichiamo questi libri li carichiamo su wikimedia commons come fa il pdf come fa il deja vu e sui progetti wikisource li trascriviamo ossia usiamo un OCR quindi una traduzione una traslitterazione automatica della carta della fotografia delle pagine del libro e lo traduce e poi lo correggiamo a mano quindi abbiamo un testo un testo leggibile da una macchina perché è scritto con carattere e l'idea era di chiudere il cerchio come fanno qui con l'istituzione internet archive loro prendere questo testo trascritto e metterlo come metadato nel loro libro in modo tale che chi caricherà questo libro potrà avere accesso direttamente alla trascrizione del libro fatta da wikimediane e chiudere così il cerchio ognuno beneficia il lavoro dell'altro ognuno nel suo campo e le collaborazioni win-win sono le migliori decisamente e poi queste slide hanno alla fine una serie di link link a dei tool che permettono di inserire questi metadati in modo semplice e rapido perché farlo perché per esempio per questa collezione di fotografie di giocatori di baseball si possono creare automaticamente quindi con dei bot questa è una collezione del met di fotografie storiche di oggetti presenti nel met e di casa baseball vi è il numero di inventario ma vi è anche il metadato rappresenta un atleto un atleta che gioca a baseball si potrebbe anche identificare il giocatore perché è presente nella fotografia e quindi creare cataloghi in modo automatico per grandi categorie posso prendere per esempio tutti gli idrovolanti con una ricerca Spark con una ricerca Sparkwell sul lago di Como o sul lago di Garda e crearmi automaticamente questa tabella molto utile quando voglio andare a categorizzare tutti i file di un progetto Glam non c'è bisogno di creare a mano cercarmi tutti le cartoline di giocatori di baseball del 1890 ma posso averlo come metadato delle immagini e andarmelo a recuperare in modo automatico o automaticamente aggiungere una categoria su Commons a tutti questi file sono d'accordo con voi questo sistema delle categorie a forma di albero obsoleto è stato pensato in un momento in cui i tag di Instagram o di Facebook o di Twitter non esistevano ancora non erano così largamente diffusi ci stiamo dirigendo come vedete con una classificazione più olistica se vogliamo usare questa parola un elemento non appartiene a una sola categoria ma appartiene a più di una categoria per i programmatori il ravvicinamento con la programmazione oggetti è abbastanza evidente un oggetto può avere più può ereditare da più genitori le caratteristiche di più genitori piuttosto che da uno solo Alex scusami se ti interrompo quando quando insomma se non hai altri passaggi o dopo che ci hai fatto vedere altri passaggi c'è una domanda in chat quindi se vuoi me la leggi per piacere sì è abbastanza articolata Michele circola chat allora intanto ti ringrazia e ti domanda se questi dati strutturati aggiuntivi non possano o non siano lì apposta per essere utilizzati anche per il riconoscimento immagini con il machine learning inoltre che ha una sì good point poi c'è aggiungi un paio di cose la risposta è sì e c'è che ci sta lavorando per identificare automaticamente perché ovviamente abbiamo ci sono 85 milioni di immagini già caricata chi si prende la briga di andare a mettere questi metadati nell'immagine già caricata pochi adesso vi mostrerò per concludere un paio di tool che lo fanno in modo ludico però essenzialmente questo è un lavoro enorme quindi c'è chi ha proposto e chi ci sta lavorando perché le fotografie su Commons sono liberamente accessibili a tutti e sono già in parte categorizzate chi ha fatto un buon lavoro ha delle categorie anche se generiche lago di Como Golfo di Napoli non vado a identificare la singola nave nel Golfo di Napoli perché ho una fotografia o nel lago di Como perché ho una fotografia che rappresenta il lago quindi ho messo una categoria generica però dando in pasto queste immagini a algoritmi che esistono già per il machine learning posso identificare elementi posso identificare navi barche a vela in una fotografia e quindi aggiungere il metadato posso identificare un banco di ostricaro e metterlo in una in una fotografia e così aggiungere il metadato sì c'è già chi ci sta lavorando probabilmente su Commons già esiste una pagina di progetti simili va cercata ma sì sì ottima domanda qualcuno ho già avuto l'idea purtroppo purtroppo per fortuna allora prima che passi a questi tool ti faccio il resto della domanda sempre di Michele che dice aspetta Claudia è chiaro a tutti ciò di cui stiamo parlando classificazione per machine learning perché mi rendo conto che non sempre parlo a un pubblico di informatici o di matematici quindi forse sono andato un po' rapidamente su queste cose qui in pratica adesso in intelligenza artificiale c'è un ramo di intelligenza artificiale che va per la maggiore da una decina d'anni a questa parte e che non è basato sulla sulla semantica non è un'intelligenza artificiale simbolica non vi è è difficilmente traducibile in termini umani risultato di questi algoritmi di questi di questi programmi perché è basato sui dati essenzialmente sono programmi che apprendono dagli esempi come un bambino che impara a camminare o andare in bicicletta facendo delle prove degli errori per dirla veramente in modo molto generico senza entrare in dettagli apprendendo da esempi buoni esempi cattivi esempi di successo esempi di di errori riescono a crearsi una rappresentazione di forme di pattern essenzialmente l'esempio più comune è appunto riconoscere elementi di una fotografia riconosco fotografie di gatti o di cani che è il classico o di panda o di scimpanzè semplicemente dando in pasto a questi questi programmi decine di migliaia centinaia di migliaia di immagini c'è un teorema che dice che più ce ne sono più sarà preciso il riconoscimento con dei label ossia questa è una fotografia di un gatto questa è la fotografia di un cane questa è la fotografia di un gatto questa è la fotografia di un cane alla fine il programma sarà capace di riconoscere fotografie di cane e di gatti se gli do in pasto una fotografia che non ho mai visto prima quindi si può utilizzare uno di questi programmi già allenato questo procedimento di imparare a riconoscere un pattern si chiamerà allenare si può aprire un programma già allenato e dargli in pasto le fotografie su commons e lui mi identificherà automaticamente quello che sa riconoscere quindi i cani gatti le navi le boe e gli idrovolanti se gli ho insegnato a riconoscere cani gatti boe idrovolanti ma posso fare anche un'altra cosa posso prendere le immagini che hanno già i metadati darle in pasto un programma di machine learning e così allenarlo a riconoscere cani gatti boe idrovolanti quindi sì c'è un doppio potenziale in questi metadati associati all'immagine si può fare anche di meglio vi sono dei tool che permettono di assegnare il metadato a una porzione dell'immagine ora non so se c'è lo qui a portata di mano in una finestra già aperta no ve lo posso trovare ci sono dei tool che permettono di selezionare una porzione ad esempio se prendo questa fotografia a caso seleziono la coppa e dico coppa la faccia di questo giocatore di baseball faccia la sua bocca metadato bocca tutta la fotografia giocatore di baseball e così via quindi arricchendo ancora di più le immagini e fornendo ancora più dati eventuali programmi di machine learning che impareranno da queste immagini scusate la digressione grazie è stato molto molto utile allora ci chiedeva anche Michele ho perso un attimo un pezzo della sua domanda le riproduzioni allora è possibile per un privato caricare queste riproduzioni lui parla in particolare di un tipo specifico riproduzioni di documenti pubblico dominio come manoscritti o affini conservati presso istituzioni LAM la domanda è è possibile per un privato caricare queste riproduzioni sotto il profilo legale visto il famigerato articolo 118 del codice beni culturali che ricordo a tutti che è quello che riguarda il canone di concessione la riproduzione corrispettivi per la riproduzione e il resto della domanda è secondo lei sarebbe secondo te Alex sarebbe oltre il possibile opportuno a prescindere dalla normativa caricare queste riproduzioni e aggiungere metadati di data come per esempio con persone luoghi opere citate eccetera allora la risposta è dipende dipende da dove volete pubblicarlo questa norma il codice urbane e parenti è una norma che non è legata al diritto d'autore è qualcuno che si in particolare lo Stato italiano o il Miba che si sta appropriando dei diritti di riprodurre un'opera che è già nel pubblico dominio secondo la legge italiana e secondo la convenzione di Berna che l'Italia ha firmato quindi la cosa è problematica è problematica quando? quando pubblico una riproduzione di un manoscritto in Italia conservato da un ente italiano bla 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 perché? perché questo ente potrebbe andare a cercare dei diritti patrimoniali che lo so che suona ridicolo però c'è questa legge quindi in Italia potrebbe essere problematico in effetti caricarlo su commons non lo è perché abbiamo detto che serve sono negli Stati Uniti e il codice urbani non c'è negli Stati Uniti talmente assurdo che credo che non esiste nessun altro paese a parte l'Italia quindi sì si può caricare vi sono manoscritti italiane opere d'arte italiane vi sono fotografie del Colosseo utilizzate su commons allora è vero che commons non è a fine di lucro però le licenze permettono il fine di lucro quindi non è un uso personale commons commons contempla anche l'utilizzazione dei file per fini commerciali quindi sì utilizzarlo su commons e su wikipedia non pone nessun problema il manoscritto non ha più diritti patrimoniali perché l'autore è morto da più di 70 anni pace in Italia la sovrindendenza la sovrindendenza vi potrà venire a cercare purtroppo sì è probabile no difatti vedo su facebook su instagram molti italiani che pubblicano foto di manoscritti o di opere d'arte pubblicate in Italia anche coperte da diritto d'autore e nessuno dice niente perché dovrebbero andare a cercare grane sulla fotografia di un'opera nel pubblico dominio però poi questa è la mia interpretazione mia vi possono chiedere sempre 20 euro o quello che è per l'utilizzo dell'immagine del manoscritto in Italia in Francia no degli stati uniti no altrove no perché non è una legge cioè non è una legge sul diritto non tocca ai diritti patrimoniali è qualcos'altro che non è riconosciuto negli altri paesi non è riconosciuto dalla convenzione di Berna sul diritto d'autore perché quindi il manoscritto è libero so che non è la risposta che volevate sentire però c'è la possibilità di pubblicarlo senza chiedere niente a nessuno ok direi ci puoi fare dicevi prima che volevi fare un esempio di diciamo un inserimento ludico a parte ti dico quello che penso io e credo che insomma sia condivisa come cosa magari quando quando hai tempo e voglia appunto di ritornare con con un passo ulteriore su Commons eventualmente anche su Wikisource visto che mi hai parlato e se se ti va a dimostrarci diciamo in chiusura questa diciamo questo modo ludico di aggiungere i dati strutturali allora sì su Wikisource anche perché Wikisource fa un uso massiccio di testi nel pubblico dominio scansiti scansiti anche in Italia ma il codice urbano non è una legge che va rispettata sui progetti di Wikimedia perché siamo siamo nel siamo su server negli Stati Uniti scusate un attimo emergenza familiare scusate un attimo forse ho fatto un guaio ho dimenticato il passeggino per strada Alex se appunto se c'è non c'è nulla che posso fare ormai quindi ai 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 la testa altrove ok dai non ti finiamo ok allora questa pagina qui che vedete è come come si spera che siano un giorno le immagini caricate da un progetto quindi con i tag legati alle singole parti dell'immagine c'è questo strumento che si chiama ISA che ha su cui si possono creare delle campagne generalmente sono le campagne GRAM con tutta una serie di fotografie caricate per esempio biblioteca BA non so di cosa si tratti ma possiamo andare a vedere che cos'è ci sono 22 immagini dei 18 partecipanti e posso iniziare iniziare a fare cosa iniziare a dire cosa rappresenta l'immagine questa immagine rappresenta Ezequiel Ramos Meisha è un ritratto sì rappresenta anche un papillon papillon nudo papillon che ha il signore vabbè non lo trova non è grave andiamo avanti questa è una firma e qualcuno ha già riconosciuto che è una firma però capite il principio che se non sono non è un progetto molto ludico perché bisogna conoscere le immagini però posso prendere qualcosa un po' più grande architettura a Ginevra con 4.000 immagini 4.400 immagini qui posso qui posso dire che cosa rappresenta quindi un balcone forse dovrei setterlo in italiano balcone in inglese probabilmente ci sono le preferenze per metterlo in inglese e va bene così salva ho aggiunto un metadato immagine successiva posso anche aggiungere una didascalia perché abbiamo visto che le didascalie sono legate alle immagini didascalia qui di Vieux Collège a Ginevra posso usarla posso fare la stessa cosa e posso farla Vieux Collège Street in Ginevra e l'ho scritta didascalia in inglese e così via il principio di questo tool è di caricare tutti i file della vostra campagna del vostro gram seguendo le istruzioni dello strumento e poi fotografia per fotografia ogni partecipante aggiunge i metadati che vede alla fine via una classifica dei partecipanti possono dare ricchi premi quotidiani a chi ha aggiunto più metadate in questa campagna e ve ne sono altre che si creano man mano però questo mi sembrava carino perché si possono limitare i caricamenti e si può mettere una data di inizio una data di fine al progetto progetto donne di Francia con 10.000 foto il gioco è riconoscere le donne che sono rappresentate nelle fotografie o elementi di vestiario molto molto interessante devo dire è un bel modo di fare gamification diciamo con i dati strutturati con coscienza diciamo quindi cercando di non di non insomma di aggiungere informazioni sempre sempre corrette e rutilizzabili io insomma vorrei ringraziarti perché ci hai fatto una grandissima panoramica su questo progetto e insomma spero ci sarà occasione di approfondire ulteriormente quindi insomma alla prossima grazie mille e risentirci veramente presto Alex è stato un piacere grazie a voi anche per noi alla prossima ciao ciao alla prossima ciao ciao